Domenica di Pentecoste, nella prima lettura ascolteremo il racconto vero e proprio dell'effusione dello Spirito sui apostoli riuniti con Maria nel Cenacolo e la liturgia ci pone come Vangelo, il Vangelo di Giovanni, il capitolo quindicesimo, dove si descrive questo arrivo dello Spirito Santo, la promessa che Gesù fa ai Suoi discepoli di questa potenza dall'alto che arriverà e che cosa sarà, esattamente che esperienza è. L'esperienza dello Spirito Santo, così come Cristo la presenta nel Vangelo di Giovanni, dice quando verrà il Paraglito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. Allora, dobbiamo capire che lo Spirito non è una realtà isolata, innanzitutto è una persona e non è una cosa e questo molto spesso nella Chiesa siamo un pochino, poco nitidi su questo punto. È una persona che viene dal Padre, inviato da Cristo ed è lo Spirito di verità che dà testimonianza di Cristo, viene dal Padre, dà testimonianza di Cristo, è lo Spirito della verità, in realtà ci introduce nella vita di Dio e la vita di Dio è una vita di relazione, è una vita di gioia, è una vita di comunione. Questa comunione fa sì che lo Spirito Santo non parla di se stesso, infatti non è facilissimo fotografare lo Spirito Santo, perché lui di fatto, quando si manifesta, parla di Cristo, parla del Padre. è comunione, è amore, è come un innamorato che non smette mai di parlare della donna che ama, è così, lo Spirito Santo che è amore è felicità, è gioia del Padre, è gioia del Figlio ed è questa la verità. La testimonianza che dà lo Spirito Santo è quella che San Paolo, nella lettera ai Romani, definisce come un grido, Abba, Padre, cioè il grido di un bimbo al suo papà, è il grido di Cristo al suo papà, cioè è il cuore di Cristo che è gratitudine, gioia verso il Padre e che arriva a noi per renderci figli nel Figlio. Il punto è che però lo Spirito Santo non parla di questo o di quello, parla del Padre, parlando di questo o di quello. Lo Spirito Santo quando arriva da noi ci parla di Dio nelle cose, ci parla di Dio per mezzo delle cose, ovvero sia, se noi chiediamo lo Spirito Santo per prendere una decisione, non ci dirà semplicemente cosa fare o cosa non fare, e forse proprio non ce lo dirà perché non è questo quello che ci deve dire, forse, ma ci parlerà del Padre e parlandoci del Padre noi capiremo cosa fare. È interessante che tante volte ci incastriamo nella iperanalisi delle situazioni per cercare di capire cosa fare, ma quella è solamente una realtà fattuale, materiale, banale, pedestre. È vedere le cose nel Padre che ci dà discernimento. Ma come fa questa opera di libertà e di luce? Ecco, parla il Signore in questo Vangelo di questa testimonianza che arriverà ad aiutare i discepoli per portare il peso della rivelazione di Cristo. Fino in fondo capire ciò che Cristo ci dice, fino in fondo capire la volontà di Dio per noi, fino in fondo capire il Padre, è qualcosa che solo lo Spirito può fare in noi. Egli che ci guiderà la verità tutta intera, ancora una volta perché? Perché ci conduce alla verità tutta intera, perché non parlerà da se stesso. È straordinaria questa cosa. Noi crediamo che la verità sia dire le cose in maniera semplicemente oggettiva. No, la verità è amore, la verità è relazionale, è dire le cose in relazione all'amore, è parlare non di se stessi, ma parlare delle relazioni, del Padre. Noi siamo chiamati a vivere le cose secondo il Padre. Lo Spirito Santo, quando arriva in noi, non cambia la nostra vita fattualmente, ma cambia la relazione che abbiamo con la nostra vita. Non ci toglierà i problemi che abbiamo, ma ce li fa vivere come un atto di abbandono. Ci farà entrare nelle cose, ci farà incontrare il Padre nelle cose. Egli annunzierà le cose future. Ecco, questo è uno degli aspetti fondamentali di questo testo. L'uomo è molto condizionato dal suo rapporto con il futuro. Si potrebbe chiedere a ciascuno di noi, ma chi ti sta raccontando il tuo futuro? Tu, quando pensi a quello che ti viene incontro, chi ti sta dicendo com'è e com'è non è? L'ansia, la paura, la preoccupazione per quel che ci succede derivano da un racconto del futuro storto, pervertito. Noi siamo angosciati per ciò che abbiamo davanti. Le cose future, le cose che ci vengono incontro, dobbiamo imparare a lasciarcele dire da Dio, lasciarcele dire dallo Spirito Santo. Egli dice, mi colorificherà perché prenderà quel che è mio e ve lo annuncerà, ed è questa gioia interna della Trinità, che è darsi gloria l'uno all'altro, della gioia che hanno fra di loro. Ecco, e dice ancora, tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Cosa tiriamo fuori da tutto questo? Che questa oscillazione gioiosa fra l'uno e l'altro, questo fatto che uno è il Padre, è l'origine di tutto, l'altro è il Figlio, è la gratitudine, ed è l'impronta della sua sostanza, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre, che invia il suo Spirito della loro relazione, questo che è l'amore che c'è all'interno della Santissima Trinità, è questo il Dio che ci sta preparando il nostro futuro. È questo il Dio che abbiamo davanti. Noi dobbiamo lasciare che in questa Pentecoste ci venga raccontato di Dio, perché il nostro cuore ha bisogno di trovare il Padre, perché noi tendiamo a vivere tutto come se fossimo soli, come se ci fossimo solamente noi a rispondere alle cose. Ecco, per tornare un momento al testo della Pentecoste, narrata negli Atti degli Apostoli, è molto importante che ciò che quegli uomini presenti, quando i discepoli escono e parlano una lingua che si comprende, che è la lingua dell'amore, ciò che loro ascoltano è, dicono loro, li udiamo annunziare nella nostra lingua nativa le opere di Dio. I discepoli non parlavano di se stessi, ma delle opere di Dio. Ciò che ha dato speranza all'umanità è sapere di Dio, è sapere della bontà di Dio, è sapere della sua misericordia, è sapere della sua potenza. E' questo che ci consola, lo Spirito Santo ci porta questa conoscenza del Padre in un cuore che finalmente è illuminato dalla sua tenerezza e dalla sua provvidenza.